Buongiorno a tutti i tre spettatori di Medicina Facile. Questa nuova puntata ha un titolo particolarmente significativo, come regolare il cervello intestinale, emblema preciso degli argomenti che andremo a trattare, come il microbiota, del quale si parla tantissimo, come le principali patologie intestinali. Tutti argomenti che naturalmente ruotano a quello che è conosciuto, chiamato come il nostro secondo cervello, che è appunto l'intestino. Ed è con vero piacere poter affrontare tutti questi argomenti grazie alla competenza di un grande esperto. Buongiorno e benvenuto nei nostri studi al professor Antonio Gasbarrini. Buongiorno professore. Buongiorno e grazie a lei. Grazie per aver accettato il nostro invito. Il professor Antonio Gasbarrini, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Interna e Gastroenterologia, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, nonché professore ordinario di Gastroenterologia dell'Università Cattolica. Io le chiedo subito perché l'intestino, professore, è considerato il secondo cervello del nostro corpo e che funzioni ha? Innanzitutto perché anatomicamente possiede tantissimi neuroni. Calcolate che l'intestino ha al suo interno oltre 500 milioni di neuroni, un numero quasi equivalente a quello dell'altro cervello. E poi perché c'è poco da fare, tutte le volte che pensiamo all'intestino o pensiamo a quando siamo agitati, emozionati, l'intestino è un organo spesso colpito. Quindi in qualche modo sente le emozioni come il primo cervello. Stiamo vedendo anche la prima diapositiva che fotografa, sintetizza un po' qual è la struttura, diciamo così, del nostro intestino. No, questa diapositiva è interessante perché oltre a darvi delle informazioni, come appunto questo numero di 500 milioni di neuroni nell'intestino, se li vedete c'hanno anche qualcosa di simile. Tutti e due hanno queste circonvoluzioni, tutti e due fanno capire che in un ambiente particolarmente piccolo, perché è vero che il primo cervello è rivestito dalla teca cranica, ma calcolate che anche la parte bassa, in quel groviglio di organo, vi sono oltre 10 metri di intestino. Cioè dalla bocca all'orifizionale, quasi 10 metri di visceri devono fare cosa? Devono trasformare quello che noi mangiamo in qualcos'altro, in un unghia, in un capello, in un pezzo di pelle, quindi una vera e propria macchina miracolosa che lavora continuamente con l'altra, che è il grande controllore, che è il primo cervello, il sistema nervoso centrale. Come lo sono? Se lo sono collegati questi due cervelli, professore? Allora, sono collegati da un complesso sistema di neuroni e di fibre assonali che mettono in comunicazione il primo dal secondo e il secondo dal primo. Calcolate che questo è un messaggio bidirezionale in continuazione. Quante volte, pensate, un ragazzo che deve fare un esame all'università o a scuola, a volte ha la necessità di andare al bagno e di liberarsi. Ma perché lo fa? Per un motivo molto semplice. Perché quando tu sei spaventato e stressato, il primo cervello dice al secondo di liberarsi, togliere tutto. Perché? Perché così corre più velocemente. Questo, ad esempio. O tante volte, quando noi mangiamo qualcosa e dobbiamo decidere quanto assorbire di un pasto, è il primo cervello che decide. Il primo cervello può decidere se farti assorbire il 20, 30, 40, 100% delle calorie in un pasto. Questo è il motivo per cui, ad esempio, ci sono persone che mangiano poco e ingrassano molto, o persone che mangiano molto e ingrassano poco. I due cervelli parlano in continuazione e spesso sono le emozioni che decidono come avviene un pasto. Possiamo dire che anche l'intestino è un cervello pensante. A tutti gli effetti. A tutti gli effetti. E, come vediamo in questa diapositiva, ci sono delle novità enorme, come lei ha detto prima, che nel secondo cervello, nel cervello intestinale, non ci sono solo delle fibre nervose o un sistema anatomico complesso, come l'intestino tenue, lo stomaco e il colon. Vi è un vero e proprio cervello microbiologico. E questa è la grande novità della medicina di adesso, la cosiddetta microbiota revolution o rivoluzione del microbiota. Abbiamo scoperto che nell'intestino vive oltre un chilo di batteri miceti e virus che colonizzano il bambino alla sua nascita, diventano costitutive e non ci abbandonano mai più. Questo cervello microbiologico fa parte di quella barriera anatomo-microbiologica che è quel qualcosa che ha permesso all'uomo di sopravvivere in epoche diverse. Lei di fatto ha un po' anticipato, bruciato la domanda che stavo per farle. Perché si sente tanto parlare di microbiota intestinale? Che cos'è e perché se ne parla tanto? Allora, come abbiamo detto, è un insieme di microbi, di batteri, miceti e virus. E vabbè, ma uno pensa, ok, ma se questo è un sistema di miceti e batteri e virus, è negativo per l'organismo, invece assolutamente no, sono comunità microbiche che il bambino, il neonato, appena dopo nato, fa in modo che entrino nel proprio apparato digerente. Perché? Perché noi nasciamo con 30-40 mila geni che ci danno i nostri genitori, ma non sono sufficienti per sopravvivere. Per sopravvivere servono un milione e mezzo, due milioni di geni addittivi che il cervello del bambino prende dall'esterno. Qual è il motivo? Perché quei geni addittivi servono a sopravvivere più a lungo. La composizione di questo cervello, però, è strettamente correlata ai cosiddetti influencer, cioè delle condizioni che ne influenzano la composizione. Abbiamo visto nella diapo precedente l'allattamento. La possiamo rimettere così? Questa diapo per me è particolarmente importante, perché questa diapositiva deve servire ai genitori e soprattutto alle madri per capire quali sono le modalità migliori per avere un microbiota ben strutturato, o meglio dire, un secondo cervello ben strutturato. Innanzitutto, se è possibile, il parto deve essere un parto naturale. Ogni tanto, chiaramente, bisogna fare un parto cesareo, perché per mille motivi non è possibile, però se uno può prediligere, sempre il parto naturale. Se fa un parto cesareo ci sono una serie di trucchi che poi bisogna adottare nei primi mesi di vita per strutturare il microbiota in maniera corretta. Il motivo del parto naturale è perché il microbiota vaginale è uno dei primi colonizzatori dell'intestino del bambino. Poi un altro concetto importante, allattare al seno il bambino, se è possibile, almeno fino al quinto, sesto, settimo mesi di vita. Perché? Perché nel latte materno ci sono una serie di batteri e una serie di prebiotici, cioè delle molecole che fanno crescere un microbiota sano. E poi, se è possibile, bisogna fare attività fisica, bisogna stare all'esterno. Non bisogna, i genitori spesso fanno crescere i bambini in una specie di cappa di vetro, non li fanno mai giocare per terra, li lavano in continuazione, non li fanno stare con gli animali. E questo è sbagliato, perché tutte queste condizioni aiutano l'intestino a prendere batteri positivi. Fate le rotolare nel fango e nel prato. Non c'è dubbio. Andiamo avanti con le diapositive, perché c'è quella successiva che avevamo anticipato. Eh sì. Questa credo che sia la diapositiva più importante e per me questa è la diapositiva che fa capire perché si parla di rivoluzione del microbiota. E calcolate che la rivoluzione del microbiota è un qualcosa di talmente potente che adesso non c'è più anno in cui le grandi riviste scientifiche, Nature, Science, Immunology, non dedicano interi numeri alla microbiota revolution, ma la grande rivoluzione sulle malattie neuropsichiatriche. Cioè si è visto che esistono una serie di eventi che condizionano il bambino nei primi 2-3-4 anni di vita e questi eventi cambiano il microbiota. Quali sono? Due genitori che litigano tra loro. Per un bambino avere un ambiente conflittuale nei primi anni, il papà e la mamma che litigano, o se no un padre troppo autoritario, o paradossalmente una madre troppo permissiva, una madre che vizia troppo i bambini, una madre o un padre depressi, un padre alcolista, problematiche economiche in famiglia, tutte queste condizioni, cosa fanno percepire al bambino? Pericolo. Pericolo attorno a lui. Il bambino non è in grado di capire perché i due genitori litigano. Quindi l'unica percezione che emette è il pericolo, qualcosa che può succedere. E allora che cosa fa? Fa in modo che il suo intestino sia colonizzato da batteri che portano geni infiammatori. Cioè, cosa vuol dire? Che dato che, non dimentichiamoci mai, che la seconda vera funzione dell'intestino non è la digestione, è l'immunità. Calcolate che l'80% delle cellule immunologiche vivono nell'intestino e da lì vanno in circolo tutta la nostra vita. Perché l'intestino? Perché l'intestino è la zona dove i predatori entrano. Entrano nella bocca, cosa trovano? 9 metri di cibo, di acqua, un ambiente meraviglioso per crescere. E l'immunità deve stare qui. Però che cosa succede? Che se il bambino ha un ambiente esterno estremamente ostile, si dota di batteri infiammatori. E quei batteri non li perde mai più. Li tiene dentro di lui tutta la vita il genoma variabile che è in grado poi di influenzare quando avvengono secondi episodi stressanti a 20, 25, 30, 40 anni una coppia che si separa, una donna che ha problemi economici, una malattia di un figlio. Quelli sono gli attivatori dell'immunità intestinale e quando l'immunità si attiva si sviluppano le malattie autoimmuni. Se voi chiudete gli occhi, non esiste persona che ha avuto una tiroidite che non ha avuto poco prima della tiroidite un evento stressante che ha riattivato un microbiota infiammatorio intestinale che quella donna ha sviluppato nell'intestino nei primi anni di vita. Affascinante questo discorso che sta facendo. Penso che dovremmo dedicare una trasmissione solo al microbiota intestinale. Tutto questo, professore, consente di comprendere meglio anche i disturbi specifici del nostro intestino? Assolutamente sì, perché come dicevamo questo cervello microbiologico intestinale che lavora poi con quello anatomico che cosa fa? Deve processare in qualche modo il cibo che entra. Se noi facciamo un viaggio virtuale col cibo, quando il cibo entra, arriva nello stomaco, deve essere predigerito, l'importanza fondamentale di avere un corretto ambiente acido-gastrico e non bloccarlo con farmaci e antisecretori che spesso impediscono la prima digestione del cibo. Poi questo cibo, come una pappa liquida, entra nell'intestino tenue e deve essere assorbito. E una prima parte la fa l'intestino. Ma moltissima roba arriva poi nella parte terminale dell'intestino e del colon. E i batteri intestinali cosa fanno? Fermentano e riprocessano questi alimenti e poi lo fanno entrare. Durante questo processo di fermentazione si produce gas. Ad esempio, il sintomo classico, il meteorismo, il gonfiore addominale, non è altro che la fermentazione dei prodotti finali della digestione da parte dei batteri intestinali. E parleremo di meteorismo. Sì, sì. Purtroppo, come si vede bene in questa diapositiva, abbiamo detto che ci sono tanti eventi stressanti che portano un microbiota malestrutturato. Un microbiota può essere povero, pensiamo a tutte le volte che facciamo antibiotico-terapia protratta, che poi abbiamo diarrea al quinto, sesto, settimo giorno e dobbiamo interromperla. Abbiamo semplicemente danneggiato il nostro cervello intestinale. O, come ho detto prima, un bambino che ad esempio, vi faccio uno scenario negativo, parto cesareo, allattamento non al seno, due genitori che litigano moltissimo problematiche economiche. Quel microbiota sarà un microbiota superinfiammatorio, attento a attivare l'immunità in continuazione. Ma questo microbiota può essere causa di malattie, può essere causa di infiammazione continua, può essere causa di maldigestione. Capite bene che per fare una diagnosi a una persona non ci si può più accontentare del sintomo. Bisogna conoscere la storia della persona. E questa è l'importanza della medicina narrativa. Ogni volta che fate una diagnosi a una persona, ogni volta che noi pensiamo, perché ognuno di noi può essere medico, ma può essere anche malato, dobbiamo pensare attentamente a che cosa è successo. Perché nella nostra vita a un certo punto un organo miracoloso come il nostro organismo perde l'equilibrio e comincia a avere dei disturbi. Non dimentichiamoci mai che i sintomi sono solo segno di un'assenza, una perdita di un equilibrio. Torniamo ai nostri disturbi intestinali. Naturalmente in questa trasmissione non potremo trattarli tutti. Scegliamo i principali, quelli più diffusi. Quali sono, professore? Abbiamo anche una diapositiva molto sintetica che ci fa capire anche su quali patologie ci concentreremo. Non c'è dubbio che la prima, quella perlomeno in prevalenza maggiore, è la sindrome dell'intestino irritabile. Poi abbiamo, dopo, e ne parleremo successivamente, altri due mondi, le intolleranze alimentari e il grande sintomo del meteorismo che di fondo hanno molto a che fare con la sindrome dell'intestino irritabile. La sindrome dell'intestino irritabile è una patologia molto comune, calcolate che colpisce dal 10 al 20% della popolazione italiana e soprattutto colpisce un po' di più il genere femminile tra i 30 e i 50 anni. Più le donne. Un po' più le donne. Un po' più le donne ed è interessante, forse verrebbe da banalizzare dicendo che sono più sensibili. Forse in qualche modo... Abbiamo anche una bella diapositiva che ci fa capire quello che sta dicendo il professore. Le donne in qualche modo sono più sensibili. Calcolate che questo cervello intestinale è dotato di moltissimi nocicettori, cioè dei recettori che sentono il dolore e hanno la sensibilità. E la donna è più sensibile dell'uomo, verosimilmente. In qualche modo sente prima disturbi, come ad esempio l'iperfermentazione e la produzione di gas intestinale o il dolore o le coliche o la motilità o una maldigestione. E in qualche modo che cos'è questo intestino irritabile? Quello che spesso si volgarizza e noi parliamo diciamo la colite spastica o la colite. Nella realtà dei fatti dobbiamo stare attenti perché la colite implica un'infiammazione del colon, dell'ultima parte. Intestino irritabile è più corretto perché per intestino si intende intestino tenue e colon, quindi quasi 6 per metri di organo. I disturbi quali sono principali? Un disturbo inglese è un nome inglese difficile da tradurre, il discomfort che vuol dire in qualche modo il malessere intestinale. Noi, gli organi, non dovremmo sentirli. Noi, generalmente, una persona sana non sente il suo apparato digerente. Una persona sana non sente un dolore articolare ma quando uno ha un'infiammazione immediatamente sente che qualcosa che c'è non va. L'intestino irritabile vuol dire che dopo che io ho mangiato sento che c'è qualcosa che non va. Sento l'intestino, sento gonfiore, sento pesantezza. A volte sento la necessità di andare in bagno e un altro tipico sintomo dell'intestino irritabile è il miglioramento dei disturbi dopo che si è andato in bagno. In qualche cosa l'organismo vuole eliminare rapidamente il contenuto per ritrovare un equilibrio. Abbiamo due diapositive che ci fanno capire bene quali sono i sintomi patiti, avvertiti da una persona che soffre di sindrome dell'intestino irritabile. Sì, sono contento di questa diapositiva perché l'intestino irritabile ha una classificazione che si chiama classificazione di Roma che viene usata a livello mondiale. In qualche modo tanti anni fa un grande gruppo di gastroenterologi italiani portò a Roma tutti i grandi esperti in intestino irritabile e i criteri di Roma sono adottati in modo internazionale. Hanno fatto scuola nel mondo. Hanno fatto scuola nel mondo. Ancora adesso si chiamano criteri di Roma poi li hanno aggiornati Roma 1, Roma 2, Roma 3 ora Roma 4 però il concetto è molto semplice. Sono tutti quei sintomi che sono convinto che qualsiasi telespettatore in questo momento ha avuto ogni tanto della vita e cioè malessere dopo aver mangiato miglioramento dopo l'evacuazione e a volte feci non normali che vuol dire o una tendenza alla stitichezza cioè in genere un intestino che funziona bene va al bagno tutti i giorni ci sono persone che però vanno a giorni alterni ed è ancora passabile ma quando una persona va meno di due volte a settimana ha sicuramente una stitichezza quando va al bagno più di tre volte al giorno ha una forma di diarrea ecco quando si toccano questi tipi di disturbi più di tre volte negli ultimi tre mesi in qualche modo si ha un intestino irritabile quindi nella realtà forse superiamo anche quei 10-20% della popolazione italiana altra diapositiva che abbiamo altra diapositiva ci dice che l'intensione irritabile si può dividere fondamente in tre forme chi ha prevalentemente diarrea dopo che ha mangiato chi invece ha prevalentemente stitichezza difficoltà a eliminare le feci o chi invece alterna il cosiddetto alvo irregolare o variabile ogni tanto diarrea ogni tanto stitichezza non sono mai normale e poi è interessante vedere in questa diapositiva che a volte l'intestino irritabile si presenta con sintomi extra intestinali quante volte dopo che io ho mangiato sto male comincio ad avere dolori articolari come pesantezza quella che io a volte chiamo la sindrome del centro commerciale soprattutto gli uomini che vanno nei centri commerciali cominciano ad avere una pesantezza alle articolazioni un senso di malessere di cefalea di letargia le donne spendono gli uomini forse però in qualche modo c'è questo malessere continuo i borborigmi le ruttazioni dopo ho mangiato che mi gonfio immediatamente ecco questo è sintomo che non c'è equilibrio non c'è equilibrio tra i due cervelli e bisogna assolutamente ritrovarlo perché calcolate che il cervello intestinale è il cervello che ci permette un corretto assorbimento di quello che mangiamo possiamo dire che la diagnosi è difficile da fare in questi casi dottore quali esami quali accertamenti prescrive solitamente allora la diagnosi è difficile perché spesso all'inizio bisogna stare attenti a non mancare il riconoscimento di una malattia vera calcolate che molte volte l'intestino irritabile maschera una malattia reale ok la malattia celiaca un morbo di crono una colitulcerosa l'inizio di un malassorbimento intestinale una ischemia intestinale un infarto dell'intestino che sta cominciando così una gastrite cronica un'esofagite cioè l'intestino è un organo centrale del nostro organismo calcolate che una persona ad esempio con scompenso cardiaco dove il cuore non funziona più bene ha un ristagno di sangue nell'intestino e quindi ha disturbi da intestino irritabile o così chi soffre di broncopneopatia cronico-struttiva o anche chi soffre di insufficienza renale ha immediatamente una gastrite uremica cioè stiamo attenti a non diciamo mancare il riconoscimento di malattie però detto che è stata fatta una buona diagnosi abbiamo tolto tutte le altre malattie a questo punto ci possiamo concentrare su questo intestino irritabile chiaramente se una persona cala di peso se una persona comincia ad avere sangue nelle feci ecco in tutti questi casi bisogna approfondire assolutamente fatta una buona diagnosi ci dobbiamo concentrare su questo come lo trattiamo l'intestino irritabile allora dobbiamo sapere che molte delle persone con intestino irritabile possono sviluppare delle intolleranze o delle allergie e toccheremo meglio questi argomenti successivamente però quelli che non hanno questi disturbi cosa possiamo fare dobbiamo a quel punto partiamo dal presupposto che la sindrome dell'intestino irritabile non è una malattia di per sé ma è solo un insieme di sintomi per i quali non si conosce nella realtà la motivazione ricordo a tutti che fino a 25-30 anni fa la maggioranza dei celiaci non era diagnosticata e quei pazienti venivano etichettati come intestino irritabile una volta che è stata scoperta la celiachia e fatta la diagnosi sono finiti nel mondo della celiachia quindi la sindrome di intestino irritabile ad oggi ci dice che non sappiamo ancora il vero motivo quindi ci dobbiamo occupare dei sintomi dobbiamo andare a curare a eliminare ai nostri pazienti il dolore addominale ed esistono ad esempio una serie di alimenti o una serie di farmaci degli antispastici che possono togliere il dolore quando abbiamo una grande produzione di gas possiamo fare delle diete prive di alimenti fermentanti quindi che producono gas quando abbiamo problemi di diarreo di stitichezza possiamo usare dei prodotti se possibile prodotti naturali sempre 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 prediligere la dieta quello che noi mangiamo o correggere una dieta sbagliata a volte io ho delle persone che vengono da me e dicono io ho stitichezza continua o gonfiore quindi un perfetto intestino irritabile io gli chiedo ma dimmi la tua dieta come è fatta e mi dicono io mangio tutto ma io non mangio verdura perché non mi piace è chiaro che se una persona non prende fibre non può andare in bagno non produce in qualche modo una massa fecale e non evacui è normale che persone che mangiano fondamentalmente pasta riso e pane non producono quasi massa fecale quindi sono ovviamente estitici e quelli che dicono ah ma io dopo che mangio le verdure mi gonfio ma per forza stai facendo funzionare bene l'intestino cioè non meravigliamoci che un bel piatto di verdura ci gonfi un po' un bel piatto di legumi che sono peraltro un alimento straordinario pieno di proteine vegetali un buon piatto di cece e di lenticchie certo che ci gonfia un po' però dopo ci farà andare al bagno e sicuramente avremo un grande beneficio abbiamo tre diapositive che farei vedere velocemente ai nostri telespettatori chiedo al professor Gasberini commentarle perché mai soprattutto in queste situazioni sia la dieta che corretti stili di vita aiutano tantissimo allora questo aliamo per me è molto importante perché vi mostra da una parte la dieta cioè la dieta dovrebbe essere sicuramente ricca di fibre in questo momento vanno molto di moda queste diete FODMAPS free cioè libere da FODMAPS è un termine inglese per dire oligosaccaridi o zuccheri di vario tipo fermentabili o non fermentabili queste diete prive di zuccheri e di fibre sì sicuramente vi riducono i disturbi ma io le ritengo in parte molto pericolose perché sono diete che spingono a effettuare un'alimentazione non sana cioè povera di fibre la dieta deve essere ricca di fibre ricordatevi che l'uomo per centinaia di migliaia di anni non ha mangiato pasta e pane l'uomo ha sempre mangiato quello che trovava in natura e che cosa trovava in natura trovava fondamentalmente fibre trovava verdure trovava ortaggi trovava frutta trovava bacche questa è l'alimentazione naturale però è chiaro che se uno poi ha dei disturbi devastanti può sicuramente ridurre un po' la quantità di fibre nell'altra parte c'è l'importanza dell'esercizio fisico della dieta si vedeva una donna che corre ecco l'esercizio fisico è fondamentale perché quando voi fate esercizio fibrico fate muovere la muscolatura addominale e calcolate senza buona muscolatura retta addominale l'intestino fa fatica a contrarsi per cui l'importanza di un sano esercizio fisico velocemente altre due diapositive questa diapositiva fa vedere come diceva appunto l'importanza delle fibre si possono usare anche delle fibre in qualche modo che si possono comprare prendere in farmacia a prendere i nostri supermercati l'inulina l'inulina è uno straordinario prebiotico il prebiotico è qualcosa che dà da mangiare ai batteri intestinali e gli fa produrre più acidi grassi a catena breve che sono delle molecole che servono fondamentali per l'intestino per riassorbire l'acqua e calcolate che però l'inulina oltre che in una farmacia si può comprendere banalmente in un supermercato un bel piatto di cicoria è ricchissimo di inulina un piccolo suggerimento dopo questa trasmissione riabituatevi a mangiare delle verdure eccezionali come la cicoria che dovrebbe essere presente in tutte le nostre tavole assolutamente sì questa è un'altra diapositiva le chiedo un commento veloce professore perché vorrei parlare questa è una diapositiva che dico molto velocemente va molto di moda in questo momento percora si parla molto di medicina integrata o integrativa cioè il medico o il comunicatore non devono più parlare solo di malattie o di farmaci devono dare suggerimenti alla vita della persona devono dire ad esempio a una persona di trovare equilibrio nel lavoro di se hanno un lavoro devastante cambiarlo se hanno problematiche enormi in famiglia affrontarle ma qui dentro c'è scritto anche prendere ad esempio un animale in casa un animale può essere molto utile per trovare l'equilibrio mentale di una persona stare con persone positive tenere lontane le persone negative se è possibile cioè tutte è vero però tante volte uno si infila in un buio o in un cul de sac e non ne riesce a venire fuori e calcolate che se la psiche non ne viene fuori non ne viene fuori neanche l'organismo il collegamento cervello organismo è ferreo due minuti per parlare di intolleranze alimentari così concluderemo gli ultimi due o tre minuti di trasmissione parlando di meteorismo questa è una grafica che ci fa capire che parleremo di intolleranze le due grandi intolleranze reazioni avverse agli alimenti e il grande monto si dividono in allergie dove c'è un meccanismo immunomediato tipica l'allergia alle nocciole l'allergia alla pesca dermatite gonfiore a volte purtroppo anche difficoltà a respirare asma bronchiale e poi ci sono le intolleranze che sono il grande numero oltre il 95% sono in enorme crescita generalmente non è del tutto esatta però diciamo non hanno un chiaro meccanismo immunomediato il più tipico esempio è l'intolleranza all'attosio persone che non hanno un enzima che si chiama lattasi prendono il latte si gonfiano e a volte hanno diarrea è chiaro il disturbo è l'intensione irritabile ma la malattia in questo caso è l'intolleranza all'attosio come le trattiamo? allora in alcuni casi banalmente dobbiamo fare delle diete da esclusione è chiaro che se io sono celiaco devo togliere il glutine se io ho una ipersensibilità al glutine malattia in esplosione molti dubitano che esista realmente però non c'è dubbio che ci sono persone che quando prendono il glutine si gonfiano di più e non sono celiache in quel caso ridurre o eliminare il glutine dalla dieta in tolleranza all'attosio c'è poco da fare ci esistono devo dire degli enzimi commerciali che si possono prendere esistono anche degli alimenti dei lattosati pensiamo al latte senza lattosio e quindi in qualche modo eliminare questi alimenti dalla dieta chiudiamo con quelle che possiamo definire la situazione peggiore i sintomi peggiori legati al meteorismo professore intanto quando il nostro tratto digerente contiene tanta aria che si fa? allora partiamo dal presupposto che l'organismo produce gas in continuazione il microbiota intestinale produce tantissimo gas se un intestino è ben strutturato però questo gas non ci disturba anzi è quello che ci stimola ad andare al bagno ed evacuare però quando si produce soprattutto nell'intestino tenue abbiamo questo fastidiosissimo gonfiore addominale che a volte portando il diaframma in alto ci impedisce anche di respirare bene e ci altera la qualità di vita quindi che cosa possiamo fare? dobbiamo innanzitutto provare a capire quale può essere la malattia sottostante calcolate che chi ha diverticoli del colon ad esempio ha un'iperfermentazione quindi meteorismo vuol dire presenza di diverticoli colici o vuol dire intolleranza quindi dobbiamo capire perché produciamo tutto questo gas e poi se non riusciamo a scoprire nulla torniamo al discorso dell'intestino irritabile cosa possiamo fare? modificare lo stile di vita e quindi evitare di fare grandi pasti purtroppo nella vita moderna si tende a fare un grandissimo pasto a volte quello della sera e poi andare subito a letto dobbiamo abituarci a mangiare meno in un unico pasto dividere l'alimentazione nel corso della giornata dobbiamo bere molto idratarci in maniera corretta e quando proprio il meteorismo diventa impossibile bere acqua bere assolutamente bere acqua non dimentichiamoci mai che il vino è una bevanda che fa parte vero della nostra tradizione ma può essere una bevanda molto pericolosa e quindi va presa con enorme correttezza nelle persone sane e soprattutto dobbiamo ridurre in qualche modo questa è una possibilità gli alimenti fermentanti ma senza eliminarli banalmente abbiamo detto quanto è importante la frutta e la verdura ora ci sono dei centrifugati che eliminano la quantità di fibra in eccesso o ad esempio se prendiamo i legumi che vi ricordo sono straordinari i contenitori di proteine vegetali possiamo fare dei passati ad esempio quindi dei piccoli trucchi per non eliminarli dalla dieta ma renderli un pochino più digeribili e meno causa di produzione di gas però non dimentichiamoci mai che tutte le volte che l'intestino non funziona bene e torniamo ai due cervelli c'è qualcosa che non funziona nella nostra vita e nel legame tra i due cervelli come la chiudiamo questa trasmissione professore che messaggi lasciamo ai nostri telespettatori che la microbiota revolution che è qualcosa che sta cambiando completamente la medicina tutte le aree della medicina non è qualcosa di astratto ma finalmente abbiamo una rivoluzione della medicina che entrerà nella pratica di tutti i giorni ed entrerà non solo nella cura dell'organo perché non dimentichiamoci mai che a noi medici non devono interessare gli organi ma devono interessare le persone e i loro contesti abbiamo una diapositiva che riguarda proprio queste considerazioni finali eccola qua la possiamo far vedere ai nostri telespettatori un'ultima domanda a che punto siamo sul microbiota siamo solo all'inizio di un universo immenso siamo all'inizio di un universo immenso cioè noi la medicina che io ho studiato nel passato non esiste più bisogna conoscerla non bisogna dimenticarla mai perché il passato è il motore del futuro però quello che sta succedendo in medicina adesso scardinerà ogni concetto la ospiteremo ancora per un aggiornamento proprio sul microbiota intestinale grazie grazie per essere stato con noi al professor Antonio Gasbarrini direttore dell'unità di medicina interna e gastroenterologia della fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma è stato un vero piacere ospitarla grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di medicina facile Francesco Spechiulli in RG Andrea Di Fabio in post produzione grazie a voi telespettatori con voi ci vediamo la prossima settimana grazie ancora e arrivederci grazie a tutti a non a a Grazie a tutti.